Questo mercato, che intanto riepiloghiamo anche attraverso qualche nome nella nostra grafica, tu Mario che cosa diresti, che cosa scriveresti? Ma intanto direi, se parliamo appena appena in generale o degli ultimi tre giorni, è stato un mercato, nel segno di Ibrahimovic, credo che sia di gran lunga, l'acquisto più importante, il movimento più importante dell'intero mercato europeo, mi sembra. Peraltro dall'acquisto di Ibrahimovic da parte del Milan sono nate a catena molte altre cose, per esempio l'ultima è l'arrivo di Borriello a Roma, non poteva più rimanere a Milano, è andata a Roma. Quindi ci sono state delle cose abbastanza straordinarie, anche inaspettate, verso la fine di questo mercato, di cui direi che fondamentalmente si sono avvalse le avversarie dell'Inter. L'Inter è rimasta assolutamente immobile e questo è un prezzo tecnico che rischia di essere molto costoso. Ecco, allora guarda, partendo da questo, hai un compito difficilissimo questa sera, perché tu sei abituato qua da noi a dare i voti, anche a dare i giudizi, ti toccano i voti sul mercato, partendo proprio dall'Inter, considerando ovviamente che, come hai detto tu, non è arrivato nessuno, sono stati presi i ragazzini, Biabiani, Cutigno, e è stato ceduto Mario Balotelli. Un voto, guarda, tutti questi punti interrogativi nella nostra grafica saranno riempiti proprio da te. All'Inter? Guarda, all'Inter 5 sul mercato, perché Balotelli non è stato sostituito, non si può considerare Biabiani un sostituito di Balotelli, Balotelli è un grande attaccante, Biabiani è un esterno molto veloce, ma che ha molto meno dimestichezza con i gol. Non mi sembra nemmeno un caso, poi sarò molto più spicciolo su tutti gli altri voti, se no facciamo davvero notte, non mi sembra nemmeno un caso, cioè sta succedendo un fatto abbastanza strano, l'Inter su tre partiti ufficiali due volte non ha segnato. Una cosa era mettere in campo nell'ultima mezz'ora un giocatore come Balotelli, e altra cosa è mettere Coutinho o lo stesso Biabiani, sono giocatori che hanno valenze molto diverse, 5. Ecco, a questo punto, dato che tu hai introdotto questi temi, vorrei ascoltare subito l'intervista a Moratti, così lasciamo un po' i veri colpi di mercato con un po' di suspense. Perché? Perché Moratti ha parlato un po' di tanti argomenti, però c'è una frase che forse ci fa un po' sorridere, però farà anche discutere. Sentiamolo, Moratti. Siamo sempre partiti con un pareggio da tre anni a questa parte, quindi credo che sia pesca la mazzia, sia un'altra qualche cosa che per il momento funziona. Quindi ho visto che non è, è chiaro che ci sono tutti i nuovi problemi di cambi importanti, sia a livello tecnico, sia a livello psicologico, perché deve ricominciare una stagione, la gente e io stesso abbiamo in mente la squadra al massimo della forma alla fine della stagione. Quindi invece bisogna avere la pazienza e l'intelligenza di capire che c'è una crescita, che ci sarà normalmente, che i giocatori sono quelli, quindi benissimo. Si può accontentare magari Benitez per un nuovo giocatore, come lui ha detto ieri dopo la partita? No, non lo so, vedremo quello che si può fare. La squadra non è cambiata, quindi la stessa squadra l'anno scorso mi sembra che sia sufficientemente forza. Qualche cosa magari faremo insomma. Ibrahimovic al Milan, questo entusiasmo, adesso hanno preso anche Robinho, si è un po' assottigliato il gap con i rossoneri? Eh sì, c'è una bella squadra, c'è un attacco formidabile, quindi diventa finalmente qualcosa di più reale la competizione fra noi, insomma. Diventa finalmente qualcosa di più reale la competizione tra di noi? È una battuta alla Moratti con grande aplomb, però rischia di diventare anche rischioso, pericoloso veramente per l'Inter, perché il Milan si è rinforzato talmente tanto che ti chiedo subito il voto, guarda Mario. Il voto del Milan per me è 9, è 9 per Ibrahimovic, poi di Rubinio discuteremo subito dopo. Per Ibrahimovic, perché Ibrahimovic è un giocatore straordinario, non è una scommessa, non è un esperimento, è un giocatore dal rendimento sicuro, ha vinto gli ultimi sette scudetti, sette campionati a cui ha partecipato, l'abbiamo già detto, è un giocatore che come lo metti anche lo scorso anno, in una squadra che quasi lo rigettava, ha segnato 22 gol, è un giocatore eccezionale, che calato in una realtà come quella del Milan, abbastanza annoiata, abbastanza disillusa, è abbastanza vecchia anche, proprio fisicamente vecchia, restituisce entusiasmo, veramente, è proprio, credo che porterà tanta energia dentro, è già successo, già in questo momento, stiamo tutti vivendo una primavera milanista, per cui sotto questo aspetto, per quanto riguarda Rubinio, secondo me è un eccesso di cui non c'era bisogno. Infatti credo di leggerti nel pensiero, perché ti faccio vedere la formazione del Milan che noi abbiamo sottotitolato impossibile, perché vedere tutti questi campioni sarebbe veramente un Milan molto offensivo. Magari la vediamo, mentre tu mi dici se è per questo motivo qui che ci racconti che è un eccesso. Sì, è un eccesso anche perché per prendere Rubinio sono stati ceduti due centravanti, Huntela e Borriello. In questo momento il Milan non ha un centravanti di ruolo che non sia Inzaghi, che è un giocatore che ha la sua età e con i vantaggi e i limiti di quel tipo di età. Ibrahimovic, se fa il centravanti puro, credo che si arrabbi lui e non renda nemmeno quanto può rendere a fare il cane sciolto, a fare il giocatore da ultimi 30 metri, il famoso schema Ibrahimovic, dai la palla a lui e vedi che succede. Non è una prima punta, è limitativo, molto limitativo pensare che sia una prima punta. Io credo si debba mettere così, ci sono quattro attaccanti, non un centravanti, quattro attaccanti che devono giocare 90 minuti. Sotto questo aspetto Rubinio riempie dei vuoti, ma ci sono proprio delle assenze di compito, manca un centravanti puro che non sia Inzaghi, per carità, forse si riassegna, si ridà fiducia, almeno sotto l'aspetto di coprire una parte di campo, si ridà fiducia a Inzaghi. Per me era meglio Borriello di Rubinio. Ma poi oltretutto per quanto riguarda il centrocampo, innanzitutto perde il posto in pratica Sedorf e poi a centrocampo ci vuole tanta sostanza per sostenere degli attaccanti come questi che sono stati acquistati. Io sinceramente non credo che perde il posto Sedorf o che finisca già l'esperimento Boateng, per quanto velleitario mi sembri anche l'esperimento Boateng. Ma io credo che sia come... Cioè, quello che credo l'ho detto. Penso che Rubinio vada a fare il quarto attaccante e quattro attaccanti con tre che scendono in campo, un quarto attaccante serve, entra sempre. Però credo che sia il quarto attaccante su tre, non su quattro. Il perché di questo acquisto di Rubinio ce l'ha raccontato anche Adriano Galliani. Riascoltiamo anche le sue parole al telefono. Bisogna stare attenti perché, lo dicevamo prima, Adriano Galliani non aveva voce, però ovviamente l'entusiasmo per questo momento gli ha concesso di raccontarci qualcosa anche con questo filo di voce che gli è rimasto. La voce ritornerà, l'importante è che siano arrivati i braimici e Rubinio. È stata una settimana durissima, faticosissima, complicatissima. Si vede che ho perso la voce a Barcellona. Non lo so quando, comunque ha poca importanza. È stato un grande regalo che il Presidente Berlusconi ha fatto a tutti i tifosi milanisti. Oggi pomeriggio il Presidente Berlusconi è stato straordinario perché io quando l'ho chiamato gli ho detto che non avevamo ancora fatto Borriello. Gli ho chiesto ok e gli ho detto avanti con Rubinio anche se non facciamo Borriello. Quindi è stato veramente il Presidente Berlusconi che non ha mai perso l'amore per il Milan ma non l'ho mai visto. Raramente erano tanti anni che non lo vedevo così appassionato e così innamorato del Milan. E questo credo che sia una notizia ancora più importante dell'arrivo di Ibrahimovic e di Rubinio. Ibrahimovic aveva già la maglia 11 da ieri quando abbiamo ceduto Untelar e quindi Rubinio avrà la 7-0 e costato 18 milioni più bonus. Un giocatore giovane è un giocatore di 26 anni e quindi Rubinio è una star. Rubinio era stato pagato 42 milioni dal City due anni fa. Quindi è uno delle stelle è un titolare brasiliano sappiamo tutti chi è Rubinio. Il nostro allenatore insisteva molto su questo fatto di avere un attaccante chiamiamolo così esterno che potesse alternarsi o anche giocare assieme con Ronaldinho e Pardo è stato accontentato dalla società. Magaliani ci ha spiegato che questo colpo comunque è anche funzionale in un certo senso a far ritornare quel feeling tra la tifoseria e lo stesso Berlusconi. Tu però Mario prima parlavi di Borriello l'avresti tenuto quindi nel nostro sondaggio noi chiediamo qual è stato il colpo il colpo migliore se Rubinio al Milan oppure Borriello alla Roma il tuo voto qual è? No, tra i due soprattutto per quello che porta alle singole squadre è molto più Borriello alla Roma. Di Rubinio è certamente un ottimo giocatore ma Gagliani confermava che probabilmente è un'alternativa a Pato e Ronaldinho mentre Borriello è un giocatore che pesa. c'è un dato di fatto e così entriamo nel voto alla Roma che secondo me è otto e mezzo c'è un dato di fatto rispetto allo scorso anno l'unica società l'unica grande squadra l'unica squadra di testa che ha aumentato cioè che ha aggiunto giocatori alla squadra del maggio scorso è stata la Roma. Le altre l'Inter la Juventus la Juventus ha fatto un mercato assolutamente particolare le altre hanno tutte messo e tolto aggiunto e tolto l'unica ad avere aggiunto e basta è stata la Roma e la Roma è arrivata a due punti dall'Inter non è arrivata la Juventus è arrivata a 27 punti dall'Inter il Milan mi sembra 12 la Roma aveva praticamente le stesse potenzialità tecniche dell'Inter ed ha aggiunto giocatori e basta tra cui uno come Borriello per cui credo che sia veramente la squadra che ha fatto il miglior mercato ha confermato Burdisso e ha aggiunto Borriello per non parlare di Adriano che resta che resta lì mi sembra emarginato sia dall'infortunio che dalle sue precedenti prestazioni però in questo momento ma l'acquisto di Borriello secondo te è già un giudizio su Adriano? ma io credo che l'acquisto di Borriello sia stata soprattutto sia stato l'uso di un'opportunità che è venuta maturando con l'arrivo di Ibrahimovic cioè c'è stato questo arrivo di Ibrahimovic che ha veramente sparigliato tutto il mercato io credo per esempio che il Milan fosse da tempo in corsa su Robinho cioè non è che l'hanno pensato due giorni fa a Robinho ma sono stati quasi costretti ad acquistare Ibrahimovic perché Ibrahimovic perché si è creata questa straordinaria opportunità di prendere un giocatore che aveva clamorosamente rotto con il proprio allenatore e che ha un ingaggio che potevano permettere solo pochissime società al mondo per cui c'è stata questa cosa che ha avuto degli effetti a catena sul mercato ha creato l'eccesso di Borriello nella rosa milanista e chiaramente anche Borriello è un giocatore che ha un ingaggio che poche società al mondo e pochissime in Italia possono permetterci per cui si è andato distinto su questo finale di mercato non è che la Roma da due mesi insegue Borriello non ci pensava nemmeno è stata una conseguenza del terremoto di Ibrahimovic Mario Borriello oggi ha detto no in pratica alla Juventus perché voleva più garanzie sul suo futuro sul contratto e la Roma in pratica gli ha detto che sicuramente l'anno prossimo lo acquisterà lo riscatterà poi c'era stato il no di Burdisso che voleva rimanere a Roma c'è stato anche l'acquisto del fratello e quindi è anche una questione di famiglia questione di cuore quella di Natale però sono tre no anzi quattro se ci vogliamo aggiungere anche quello di Calazze come vanno interpretati? Vanno interpretati che in questo momento la Juve fa quel che può e non quel che vuole e non ha l'appelo non ha l'arroganza la bellezza dell'arroganza il giocatore soprattutto il grande giocatore